Bravo sei, in silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, oggi finalmente è questo famoso 3 marzo che l'Infinity World veramente ci ha buttato ovunque all'interno del gioco. Ve ne parlerò subito, ma innanzitutto oggi faremo due live, una alle 13.30 e una alle 18.00 così all'ora di pranzo giochiamo e vediamo tutte le notizie che usciranno nel corso della mattinata e soprattutto alle 18.00 vediamo cosa accadrà in game alle ore 19.00 perché come abbiamo visto settimana scorsa era cambiata la scritta Top Secret, era arrivata la scritta Transmission Incoming, quindi qualcosa per forza di cose deve accadere e adesso vi dirò tutto quanto. Partiamo innanzitutto con Code Mobile, è arrivata la mappa Nack de Rentoten all'interno di Zombies, avete capito bene, ma non nella versione italiana e europea, al momento è disponibile soltanto nella versione giapponese, quindi garena e coreana. Non ci sono ancora date per rilascio globale, seppure in un post da parte degli sviluppatori ufficiale si diceva che la modalità verrà ritirata dal gioco perché la volevano migliorare. Vi farò sapere ragazzi nelle prossime ore l'evoluzione appunto di questa cosa, soprattutto per la versione europea. Ma buttiamoci a capofitto all'interno di Modern Warfare perché vi faccio vedere innanzitutto questo breve video che è stato riportato appunto in rete, a quanto pare dopo gli ultimi aggiornamenti è stata inserita una nuova meccanica che riguarda la parte del paracadutismo. Infatti ora potremo guardare il nostro operatore in terza persona. Questa meccanica è la stessa che verrà utilizzata nella Bat Royale secondo i rumors e forse Liffin World ha deciso di estendere questa feature anche al multiplayer e nelle special ops in vista dell'imminente lancio della modalità. Vi aggiungerò appunto su questo aspetto. Ieri sera sono tornati a parlare due importanti leakers, Legend of Hack e TGR. Legend of Hack parla della possibilità di vedere l'embargo della modalità Bat Royale scadere il 9 o il 10 di marzo, mentre TGR dice che per lui la data più attendibile, più plausibile per vedere il rilascio del gioco, o meglio della modalità, è il 10 di marzo. Infatti, secondo le sue fonti, la modalità doveva arrivare già a febbraio. Il problema è che poi la Season 2 è stata rinviata, quindi secondo lui ci sono stati dei ritardi relativi al gioco, se no sarebbe stato rispettato il rilascio previsto per febbraio. Quindi, secondo le sue fonti, il 10 di marzo. Ma cosa accadrà oggi? Abbiamo visto che Liffin World ci ha spammato in ogni parte del gioco il 3 marzo all'interno del tag clan con l'errore 3-3, il poster che vi ho fatto vedere all'interno di Piccadilly, che riporta uscita il 3 marzo con un logo che ricorda il teschio della modalità Battle Royale. Il 3-3 che abbiamo visto nella scritta, che appare tante volte in Top Secret nella schermata principale. E vi faccio vedere quest'altra bella chicca che mi hanno riportato appunto i miei ragazzi della community. L'abbiamo visto anche ieri in live. Nuovamente un 3-3 che appare addirittura all'interno di Rust. Una cosa veramente molto, ma molto carina, veramente molto, molto interessante. Ringrazio Gianluca Cicorelli, Epic Fury, che ci ha mandato questo video. Quindi un altro easter egg all'interno della mappa Rust che riporta sempre questa data, 3 marzo. Oggi è il grande giorno del reveal. Oggi ci saranno nuovi contenuti, nuovi indizi, nuovi easter egg che ci mostreranno finalmente quando uscirà la Battle Royale. Ci vediamo noi alle 13.30 e poi alle 18 per scoprirlo insieme e speriamo che oggi arrivi il big annuncio. 500 mi piace per il prossimo video informativo e noi appuntamento con il nuovo TG Code domani alle 7.